Parliamo di Black Adam. Premesso che io questo film lo attendevo sinceramente, soprattutto dopo alcuni spot che sotto il punto di vista delle scene d'azione mi avevano veramente attirato. Poi vabbè c'è comunque The Rock come protagonista e questo per quanto mi riguarda significa amore a prima vista. Allora per quale motivo questo film non mi ha convinto al 100%? Lo vedremo in questo video. Prima di iniziare però come sempre vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, i link li trovate nella descrizione assieme anche al link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd. Dove troverete la t-shirt che state vedendo adesso sullo schermo, se inserite il codice ElPensiero4 al momento del pagamento, dopo aver inserito a sua volta un paio di calze nel carrello, queste calze le pagherete 0€ perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Un grazie in anticipo se deciderete di supportare il canale in questo modo. Altri modi per supportarmi anche gratuitamente, un like, un'iscrizione se vi trovate qui per la primissima volta e magari anche una condivisione. Ma adesso parliamo di Black Adam. Ripeto che io il film lo attendevo anche perché è stato presentato come un vero e proprio starting point per il DC Extended Universe, anche se comunque la gestione sotto cui è stato prodotto non è quella attuale, ovvero quella di Zaslav, ma quella di Amada, ovvero la stessa che è coesistita per molto tempo con Lady di Snyder, anche se poi comunque proprio Amada è stato il primo a voler Snyder fuori dalle palle. Per quanto mi riguarda l'universo cinematografico creato da Zack Snyder è assolutamente da buttare. Non sono un sostenitore anche se comunque ai tempi la sua Snyder Cut mi piacque, potete trovare anche la recensione lì, c'è il mio pensiero precedente su quel film, adesso la penso totalmente in modo differente. Fatto sta che ero curioso di scoprire come questo nuovo punto di inizio per il DC Extended Universe si sarebbe presentato. E come si è presentato? Come un film di Snyder senza lui alla regia. Ok, in teoria, ripeto, questo film sì, è uno starting point, ma è comunque stato fatto sotto Amada, sotto quella vecchia gestione, cambierà tutto, sì, questo sì, però The Rock rimarrà. E ultimamente sembra che Dwayne Johnson abbia l'ultima parola su qualsiasi cosa all'interno della DC o della Warner, quindi io personalmente spero in un cambiamento totale, vedremo se arriverà. Parlando invece del film, perché ho notato dello Snyder in Black Adam? Partendo dalla primissima cosa che contraddistingue i film di Zack Snyder, ovvero gli slow motion. Questo film è pieno di slow motion. Mi sembrava davvero di star guardando la Snyder Cut, di quante scene a rallentatore venivano presentate. E ok, magari durante una scena di combattimento concitata con tantissimi personaggi che combattono lì, le scene di slow motion ci stanno, anzi, devono esserci per far capire bene allo spettatore quello che sta guardando. C'è anche una scena che ricalca quelle del Quicksilver di Evan Peters negli X-Men, nei diversi X-Men, e lì ci può anche stare, anche se è comunque letteralmente la stessa scena. Ma personalmente non apprezzo le scene a rallentatore in cui c'è un solo personaggio che sta, per esempio, tirando un pugno e quindi questo è quello che vediamo. Spero di essermi fatto capire. Oppure il personaggio che si gira è... da che si gira di forza si gira a rallentatore. Ecco, queste scene, proprio come le cavolate che ho appena fatto, sembrano molto molto ridicole, anche nel film. Questo secondo me è il problema maggiore di Black Adam. Poi, parlando invece della trama, della storia del film, non potevano scegliere trama e storia più facili, più semplici di queste. Mi ha ricordato molto un film supereroistico di inizio anni 2000, anche se in quel periodo di film migliori sono stati fatti. È pieno di cliché, uno dopo l'altro, tutti prevedibili e anche il finale, in realtà, fa parte e lo associo a questi cliché. Villain Anonimi, la CGI, soprattutto nel Villain, diciamo, non così tanto apprezzabile, per essere carini. E arriviamo all'elefante nella stanza, The Rock. Non perché sia un problema di questo film, ma proprio perché è enorme. Infatti Black Adam è semplicemente Dwayne Johnson con un costumino, lui è sempre stato Black Adam. Una cosa che però mi dispiace e che mi fa allontanare un po' dall'idea che avevo di The Rock è che qui ha perso totalmente il suo essere autoironico. Qui si prende totalmente sul serio, veramente se la crede tantissimo. E questo molte volte lo fa sembrare un po' troppo esagerato, ridicolo, ripeto questa parola da un po', però sì, è così. The Rock non è mai stato un grandissimo attore, però è una grandissima presenza. Ha un carisma potentissimo e qui l'ho visto un po' annullato. I personaggi secondari, a parte la Justice Society of America, sono messi lì un po' per caso, comunque per avere solo un collegamento tra Black Adam e il mondo reale, il mondo terreno. Poi in realtà non sono nemmeno così tanto caratterizzati. Abbiamo Lara Croft, abbiamo Lara Croft, il figlio di Lara Croft e lo zio del figlio di Lara Croft, quindi il fratello di Lara Croft. Quest'ultimo ovviamente è la comedy relief del film, anche se comunque ce ne sono un paio di personaggi con l'intento solo di essere comedy relief, ovvero il personaggio che fa ridere. Poi non è detto che funzioni, ma l'intento c'era. Infatti c'è una cosa che effettivamente allontana questo film da Snyder e tutto il suo lavoro. C'è più comicità in confronto a altri film della DC usciti finora, del DC Extended Universe, più comicità di Man of Steel, più comicità di Batman v Superman, anche se la scena di Marta è abbastanza comica. Ovviamente non c'è più comicità di The Suicide Squad, ma capite anche il motivo, però si fanno più battutine alla Marvel. Alcune sinceramente funzionano, alcune scene, alcune gag, anche fisiche, mi hanno fatto sorridere, altre persino ridere. Mentre ce ne sono altre che mi hanno fatto tenere un sorriso un po' cringiato, possiamo dirlo così. Per esempio, voglio riportarvi una battuta, tranquilli, non è spoiler, abbiamo come protagonisti di questa scena Black Adam, che è circondato da fulmini, e appunto Lara Croft e il fratello, fratello Comedy Relief. E quest'ultimo dice alla sorella, non toccarlo, è fatto di elettricità. E lei gli risponde, allora toccalo tu, visto che fai l'elettricista. Ecco. Questa è la reazione. L'altro personaggio Comedy Relief è Atom Smasher, ovvero uno dei membri della Justice Society of America. I membri sono quattro e sono appunto Atom Smasher, chiamato per tutto il tempo Smasher nel film, abbiamo poi Cyclone, che è stato detto da molti, mi è entrato un capello nell'occhio. Appunto Cyclone, che a detta di molti, ed è anche vero, ha il potere del rallenty, dello slow motion. Abbiamo poi Oakman, che è palesemente il capo del gruppo. E poi Dr. Fate, interpretato dal grandissimo Pierce Brosnan. Quest'ultimo è il mio preferito dei quattro e probabilmente davvero l'unico che ha senso che sia lì. È un peccato però che li abbiano introdotti un po' così, soprattutto Dr. Fate, e che non li abbiano sviscerati così tanto. Mi sarebbe piaciuto sapere un po' di più, ma possiamo anche capire da soli che se si andava un po' più nel dettaglio delle vite, soprattutto di Dr. Fate, si sarebbe spostato l'occhio di bue da Black Adam alla Justice Society e questa cosa a The Rock probabilmente non sarebbe piaciuta tantissimo. Quindi loro sono messi lì solo per fare un po' da contro a Black Adam, anche se in realtà è finito tutto un po' presto. L'alleanza doveva arrivare ovviamente, però me la sarei aspettata molto più là nel film, invece è arrivata subito. Una sola scena di combattimento e sono già tutti amici, anche se si prendono per il culo per tutto il tempo, però... Visto che ho citato le scene di combattimento, posso dirvi che il film è pieno. Pieno di scene d'azione. Sfortunatamente alcune di queste sono incomprensibili. I poteri di tutti i personaggi con poteri sono anche fighi, realizzati anche bene. La CGI probabilmente è decente per tutto il film, poi arriva il villain, però è decente per tutto il film. È una delle migliori CGI usate dalla DC nei film del DC Extended Universe. Molte volte è credibile, poi ripeto, arriva il villain e si distrugge tutto. Tornando al fatto che questo dovrebbe essere a tutti gli effetti uno starting point per il DC Extended Universe, i riferimenti con il passato ci sono, partendo dalla Amanda Waller, che compare anche nel trailer, quindi non vedetela come spoiler, che incarica proprio la Justice Society di fermare Black Adam. E ora mi chiedo, dove è stata finora? Per quale motivo esiste la Justice Society assieme alla Justice League? In teoria la Justice League dovrebbe essere ancora lì, da qualche parte, con Batman accasato con Jennifer Lopez, Flash in carcere, ecco lì. Da qualche parte dovrebbe comunque esserci. Però la Justice Society sembra spuntare così dal nulla. Fatto sta che i personaggi secondari, anche quegli umani, sembrano conoscere questo gruppo, sembrano conoscere in realtà proprio l'esistenza dei supereroi da anni e anni. Quindi non si capisce quando questo film in realtà è ambientato. Poi vabbè, di altri riferimenti ce ne sono tantissimi. Letteralmente la camera del protagonista bambino è piena di poster, di statuette, di altri supereroi DC. Quindi, vabbè, comunque è come il fratello di Billy in Shazam. Mi ha fatto strano però non vedere nessun riferimento a Shazam in quanto tale, se non appunto lo stregone che dà i poteri. Vabbè, comunque quello doveva per forza starci, visto il personaggio. Ma col senno di poi, dopo la post-credit, che non dico naturalmente, ma penso la conosciate tutti già, visto che The Rock l'andava paventando in tutti i late show, in tutte le interviste, nelle sue storie, su TikTok, da tutte le parti, diceva il contenuto della post-credit, quindi... Però comunque non la voglio dire. Col senno di poi, appunto, strano non aver visto nessun riferimento di alto livello a Shazam. Arrivati a questo punto del video, sembrerebbe che il film non mi abbia fatto schifo. E no, non è così in realtà. Mi è piaciuto. La prima volta mi era piaciuto davvero di più. Poi, con il rewatch, il tutto era scemato, conoscendo quello che avrei rivisto. E a distanza di qualche giorno posso dirvi che il film non mi fa schifo, ma non mi è nemmeno piaciuto tantissimo. Non è ovviamente il miglior film del DC Extended Universe, ma neanche il peggiore. C'è stato davvero di peggio. Questo sempre ovviamente secondo il mio parere. Ho visto nettamente di peggio, proprio all'interno del DC Extended Universe. The Suicide Squad, per quanto mi riguarda, non si supererà mai, almeno che non si lavori un sequel sempre con James Gunn. E naturalmente il varco tra i due film è enorme. Visto che ho parlato di James Gunn, posso dire che qui, oltre a vedere anche Snyder, ho visto una copia molto, molto mal fatta di James Gunn, dello stesso James Gunn. Infatti, durante le scene di combattimento partivano musiche degli anni 80, anni 90, comunque musiche molto pop, anche messe a caso in realtà. Solo per rifarsi a quel tipo di cinema che appunto lo stesso James Gunn ha creato, in qualche modo con i suoi guardiani, poi continuato appunto con Guardiani 2, e The Suicide Squad. Ma il copiare James Gunn in qualche modo l'hanno già fatto ai tempi del primo Suicide Squad, infatti quello doveva essere il Guardiani della Galassia della DC. Non è stato così, poi alla fine con The Suicide Squad hanno deciso di prendere la via più facile, ovvero prendere il creatore dei Guardiani della Galassia. Cinematografici, eh? Gente dei fumetti, non arrabbiatevi dopo questa affermazione. Ma ragazzi, direi adesso di passare alla parte spoiler, quindi se ancora non avete visto Black Adam, uscite dal video e tornate solamente dopo averlo visto, perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Come primissima cosa vorrei parlare intanto della post-credit, che comunque non sto spoilerando io, ma la spoilerata The Rock da giorni, da settimane, comunque sappiamo questa post-credit da tanto, tanto tempo. Ed è stata ovviamente una mossa di marketing, perché sapeva anche la DC che non sarebbe servito solo The Rock a far guardare questo film alla gente. E quindi, sì, nella post-credit c'è il Superman di Cavill, che quindi tornerà in pianta stabile, almeno per ora, nel DC Extended Universe. Arriveremo anche a un Black Adam contro Superman, l'ha detto proprio The Rock. Si vede che comunque è cambiato dall'ultimo prodotto in cui è comparso, ovvero il Justice League del 2017, quello canonico ovviamente, se vogliamo contare anche la Snyder Cut che non è canonica, comunque pur sempre di Justice League stiamo parlando. Io devo dire che il Superman di Cavill, ma in generale Cavill in quanto attore, lo apprezzo. Non l'ho apprezzato nei prodotti, il Superman, perché quello per quanto mi riguarda non è Superman, lo dicono tutti, e mi aggiungo anch'io al gregge, per alcuni anche senza virgolette, perché secondo i fan di Snyder chi va contro il loro dio Zack è appunto una pecora, però appunto fortunatamente con questa post-credit sembra un po' diverso. Speriamo per il futuro. Comunque hanno davvero tenuto così tanto a farci capire che un giorno arriverà Superman contro Black Adam, che, ricordate le scene in camera del bambino, che in questo momento non ricordo come si chiami, quindi vedete quanto comunque i personaggi mi siano rimasti impressi, mi ricordo solo i nomi dei supereroi. Ecco, nelle scene in camera del bambino, quando Black Adam fa una qualsiasi cosa, la camera induggia sempre e solo quando i raggi, i raggi, i fulmini, i pugni colpiscono le cose di Superman. C'è proprio lui che sfonda la porta, dietro c'è il poster del logo di Superman, e si vede la camera che induggia lì. Quando lui si risveglia con il fulmine, colpisce un altro poster e della faccia di Superman. Ok, basta. Si è capito, non c'è bisogno di sottolinearlo così tanto. Stessa cosa il fatto che lo zio sia un elettricista, lo sottolineano ogni due secondi, non capisco per quale motivo. Parliamo del finale, almeno della morte o scomparsa di Dr. Fate, perché sinceramente mi sarebbe piaciuto rivedere il personaggio in altri prodotti, non è detto che non avremmo un film di Dr. Fate prequel, o sequel, magari si inventano un modo per farlo ritornare in vita, comunque mi sarebbe piaciuto rivedere il personaggio. Gli altri della Justice Society sono un po' messi lì a caso, Hawkman è l'unico un po' più caratterizzato, ma Dr. Fate è il migliore, il migliore, chiamiamolo il meno peggio tra gli altri, e mi è dispiaciuto vederlo morire, non perché mi fosse affezionato al personaggio, ma proprio perché avrei voluto vederne di più, per capirne di più. Ci hanno dato veramente poco tempo per conoscere questi personaggi da zero. Il villain non ne parliamo, anonimo da far schifo, la CGI terribile, semplicemente il solito villain da origin story di un personaggio, qui Black Adam lo sconfigge, ma in realtà viene aiutato dalla Justice Society, quelli rimasti in vita, però mi è piaciuto proprio la conclusione, la morte di questo personaggio, la frase che Black Adam dice all'orecchio del demone enorme. E mi si è appena scaricata la batteria della videocamera, quindi chiudiamo il video con qualche immagine di Black Adam e il voiceover. Ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Black Adam, fatemi sapere soprattutto cosa vedreste bene nel futuro del personaggio, o dei personaggi, comprendendo anche il Superman di Kevil. Vi ricordo che in descrizione trovate i link dei miei social, il link di Pampling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!